Si chiama Trasparenze del Vero ed è il titolo della collettiva che inaugura ad Andria la nuova stagione artistica del Centro di Promozione Culturale, le Muse, sei gli artisti coinvolti tutti differenti tra loro per provenienza e formazione, Alberto Andreis, Alessandro Busci, Nicola Lannini, Simon Pasini, Leo Ragno e Alberto Zamboni. L'apertura della mostra, contesto critico del professor Roberto Cresti, è stata particolarmente apprezzata e partecipata. Sono sei interpreti del nostro tempo e sei interpreti del rapporto con la realtà del nostro tempo. Il titolo della mostra Trasparenze del Vero implica una sorta di rovesciamento del concetto di realismo. Si tratta in realtà di un realismo che viene costruito attraverso la memoria dell'arte, quindi non è un realismo che si ispiri a un'animesi, cioè a un'imitazione di ciò che noi abbiamo intorno, ma in realtà porta la memoria appunto della tradizione, in gran parte anche della tradizione ottocentesca italiana, nel nostro tempo. La mostra sarà visitabile sino al 10 gennaio 2025 presso la sede del Centro Le Muse in Via Giolitti numero 10. Artisti che provengono da formazioni diverse, hanno stili diversi, provenienze diverse, anche età diverse. Nonostante questo però, presentano due aspetti fondamentali. Innanzitutto la sapienza esecutiva e poi la capacità di partire dalla realtà per interpretarla, rappresentarla in termini figurativi, in modo tale che ne viene fuori quella verità autentica che solo l'arte possa percogliere.